Dopo un rapido passaggio di aria fredda in quota che ha provocato residuo e instabilità, tendenza graduale e lenta rimonta della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, che garantirà tempo stabile e soleggiato nel fine settimana. In Toscana, giovedì 20 agosto poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso nelle zone interne, con addensamenti anche consistenti sui rilevi appenninici e sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino. Possibilità di locali e brevi piogge più probabili sull'Appennino fiorentino e aretino. Venti deboli o moderati settentrionali di mastrale lungo la costa, mari in prevalenza poco mossi sotto costa, mossi a largo, temperature minime in lieve calo, massime in contenuto aumento. Sul territorio provinciale poco nuvoloso, tutto al più velato, coperto nel pomeriggio sui rilievi della Valle del Serchio. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 16, massima 29 gradi. In Versilia e sul litorale, minima 18, massima 25. In Garfagnane, zone montane, minima 12, massima 27 gradi. Il tempo migliora decisamente nel fine settimana, con temperature in aumento, ma nelle medie stagionali.